Il risultato era preditto perché questo non è un referendum democratico, questo non è secondo la legge ucraina, anche la legge internazionale. In Mosca o in altre città loro potevano scrivere una cifra che vuole 100%, 120%. Ma questo referendum non è riconosciuto per il mondo, per tutti i paesi e noi continuiamo di lavorare con i nostri partner internazionali per trovare la soluzione. Voglio credere che la Russia può ascoltare la voce del mondo e può realizzare la raccomandazione dell'Unione Europea, dell'ONU, di tutte le organizzazioni internazionali per lasciare il territorio di Crimea e cominciare un dialogo giusto e vero con l'Ucraina per trovare soluzioni se c'è uno o altro problema. Il ruolo generale dell'Unione Europea è molto molto importante perché l'Unione Europea è un partner numero uno per Russia e tra un dialogo entre l'Unione Europea e Russia noi crediamo che debba trovare la soluzione. Purtroppo dall'inizio Russia non vuole trovare questa soluzione e adesso dopo la decisione di ieri del Consiglio del Ministro Esteri l'Unione Europea ha cominciato a realizzare la seconda fase di questo dialogo, la fase di consanzione. Penso che con consanzione possiamo raggiungere altra soluzione e Russia lascia il territorio dell'Ucraina. Altra cosa voglio solo dire che il ruolo dell'Italia è grande perché dal punto di vista della futura presidenza di Italia in seconda parte di questo anno voglio che l'Italia sia più attiva per raggiungere la soluzione come il primo possibile e noi crediamo che il nuovo governo italiano, il nuovo ministro voglio ringraziare il ministro e il presidente del Consiglio per un sostegno dell'integrità interterritoriale dell'Ucraina e penso che noi possiamo continuare con il nostro amico Italia come il presidente dell'Unione Europea. Grazie